Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Presentato a dicembre, dopo quasi cinque mesi, stenta a decollare il progetto del pacco alimentare per 200 famiglie indigenti di Ariane Orpino, iniziativa messa in essere attraverso l'adesione del Comune al Banco Alimentare Campano Onlus, con la collaborazione del Piano di Zona Sociale e dell'Associazione Vita, utilizzando il Fondo Unico d'Ambito a carico dell'ente. Dopo il primo bando andato a vuoto con solo 40 domande e la necessità di riaprire i termini da parte del Piano di Zona, ora il problema pare sia una sede adeguata da utilizzare per la distribuzione dei pacchi. Gli spazi antistanti e l'Associazione Vita, come tutti gli arianesi ben sanno, non sono adatti per lo scarico merci, c'è una salita molto ripida ed un camion non riuscirebbe ad arrivarci. Circostanza ben nota a tutti dal primo momento, dunque si è posta da subito la necessità di individuare una sede dove far confluire i pacchi e consegnarli alle famiglie. Una sede che fosse anche piuttosto discreta, perché pare che tra le motivazioni della iniziale scarsa adesione all'iniziativa, c'è anche un certo pudore da parte dei capofamiglia a dover mostrare apertamente le proprie difficoltà economiche, oltre alla stanchezza di produrre carte su carte per poter accedere a qualsiasi aiuto. Interpellati i referenti del Comune ci spiegano che la sede individuata è quella del Centro Sociale ai Martiri. In data 30 aprile la Giunta ha deliberato la concessione in comodato d'uso. Ci arrivano quindi rassicurazioni sul fatto che manca davvero solo qualche dettaglio burocratico per definire il tutto e finalmente le famiglie che ne hanno necessità, al momento 110, quelle in elenco, riceveranno il pacco con cadenza mensile.